Svoltare, cambiare marcia puntando sui giovani, agricoltura, ambiente. Lo sviluppo del Sannio passa da qui, non cambiando gli argomenti di discussione, ma cambiando il modo di discuterne. È il bilancio di Sannio Start, la manifestazione organizzata dal Partito Democratico a Telese la settimana scorsa. Bilancio presentato questa mattina nella sede provinciale del partito. Sicuramente faremo, dopo il grandissimo lavoro che abbiamo fatto, quindi un approfondimento di quattro giorni, con tavoli e quindi con la possibilità orizzontale e quindi data a tutti di partecipare e di dare il contributo, abbiamo fatto secondo me un lavoro straordinario. Erano anni che non si faceva uno studio programmatico di tal misura e di tal qualità in questa provincia. Ora è chiaro che ritorneremo punto su punto, facendo un Sannio Start tematico, a distanza di un mese o un mese e mezzo, e quindi approfondiremo tutti gli argomenti. Nel documento c'è grandissima attenzione per l'agricoltura, agricoltura che dopo anni di crisi fortissime in questi territori sta dando dei segnali molto positivi. Può essere una delle vie giuste per la ripresa? Sicuramente sì. Negli anni scorsi c'era qualcuno che diceva parlare ancora dell'agricoltura oggi è anacronistico, il mondo non va più da quella parte. Io sono convinto invece che, soprattutto in questa provincia, agricoltura è sinonimo di agroalimentare eccellente, è sinonimo di prodotto primario eccellente. Mancano tutta una serie di azioni utili e necessarie per l'internazionalizzazione, la commercializzazione, la conoscenza del prodotto, ma parlare di agricoltura significa parlare anche di cultura, significa parlare anche di turismo. Il nostro settore primario è l'agricoltura, seguito dall'edilizia. Fare un ragionamento che comprende agricoltura ed edilizia, ma in termini ad accezioni diverse rispetto al passato. E quindi quando parliamo di agricoltura mi rifaccio alle cose che vi ho appena detto. Quando parlo di edilizia significa chiaramente non consumare nuovo suolo, significa sviluppare la bioedilizia, significa soprattutto essere la provincia apripista su settori e filoni finora inesplorati. Grazie a tutti.